Allora io mi aspetto che facciamo qualcosa in più con questa squadra, con gli attuali giocatori che abbiamo in rosa perché ritengo che abbiamo una rosa importante e penso che lo dimostrano i numeri quando abbiamo fatto le partite con le prime quattro, le prime cinque della classe dove non siamo andati mai sotto non abbiamo mai perso, tranne Matera che è stata una partita un po' particolare dove nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche cosina nell'impostazione della stessa partita e quindi ritengo che con questa squadra possiamo e abbiamo le possibilità di fare di più di quello che abbiamo fatto nel girone di andata perché analizzando tutte le partite, cose che io ho fatto personalmente con il mio staff, cose che ho fatto con la squadra, sicuramente dal campo si poteva raccogliere qualche cosina in più siamo cresciuti, siamo maturati sotto tanti punti di vista, sotto l'aspetto della coesione stiamo diventando giorno dopo giorno sempre più squadra e penso che lo abbia dimostrato la partita che abbiamo vinto contro la Casertana perché francamente dopo i primi 20-25 minuti facevo fatica a pensare di poter vincere quella partita per le condizioni del campo principalmente, non per altro, dove diventava tutto difficile però ritengo che la nostra capabilità e la voglia dei ragazzi di portare a caso un risultato importante lo abbia dimostrato quindi questo mi fa ben sperare che con questa squadra, con gli stessi uomini possiamo raccogliere qualche cosina in più dalle prossime 19 gare Tanto, tanto perché è un ragazzo che intanto è uno forte da un punto di vista mentale uno che dà serenità al gruppo non è uno che, voglio dire, è uno che ci ha dato sicuramente, ha alzato l'asticella sotto tutti i profili sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico, scusate, sotto l'aspetto tecnico un ragazzo che veniva da un periodo di fermo da circa sei mesi ha avuto l'apparente sacrotone dopo l'infortunio però per un calciatore il fatto di stare fermo e non allenarsi in un gruppo per poter fare la partita la domenica viene sempre difficile però siamo stati, se mi permettete, siamo stati bravi con il mio staff a inserirlo nel modo giusto per cercare di portarlo a quello che oggi sta riuscendo a darci sul campo e ritengo che ancora c'è tanto da fare, tanto da migliorare ma non solo lui, penso che anche altri giocatori stanno dimostrando di poter alzare l'asticella e cercare di migliorarci domenica dopo domenica o sabato dopo sabato Il divario può essere in termini che loro già hanno lavorato su una rosa che già lo scorso anno avevano nelle mani mi riferisco al Foggia dove è cambiato poco mi riferisco a Lecce dove ha preso dei giocatori le ha inseriti in un gruppo che già lo scorso anno aveva fatto un buon campionato è andato a prendere dei giocatori che le hanno dato delle certezze la Juve Stabia ha fatto una buona squadra inserendo in un telaio che già c'era l'anno prima e lo stesso discorso per quanto riguarda il Matera dove aveva una buona struttura di base ha messo dei giocatori importanti e quindi ritengo che hanno tutte l'unico vantaggio può essere questo però penso che noi siamo alla pari se non in alcune situazioni forse siamo anche più forti e quindi lo dimostra la difesa che siamo tra le meno battute lo dimostra il fatto che abbiamo dei giovani importanti nella rosa vedi Di Grazia, Vedi Fornito, Vedi Parisi abbiamo diversi giovani in rosa che ci possono dare in là rispetto come età media penso che abbiamo un'età media tra le più basse tra le squadre quelle di prima fascia e quindi